Parte l'avventura della squadra maschile del Tennis Club Borgo Trebbia nel campionato di Serie B1. Il gruppo, capitanato dai tecnici piacentini Gianluca Beghi e Andrea Nociti, si appresta così ad affrontare la nuova avventura sportiva dopo la promozione ottenuta l'anno scorso. Sono stati confermati tutti i ragazzi dell'anno scorso, quindi abbiamo come numero uno Brouwer, che è circa 200 ATP, come numero due gioca Gergeli Madaraz, che è 500 ATP, e poi abbiamo Andrea Bolla, che è un giocatore italiano, attualmente classificato 2-3, e abbiamo Lorenzo Frigerio, che è stato 300 ATP, e poi abbiamo i tre ragazzi del Vivaio, Luca Garazzetti, Alessandro Sartori e Giuseppe Schiavi, e poi abbiamo Luca Beni, che è l'altro capitano insieme a me. La prima giornata in programma il 28 aprile, in trasferta a Reggio Calabria, i ragazzi si stanno allenando. Ci stiamo preparando al meglio, ma soprattutto la terza giornata in trasferta in Sardegna sarà la più difficile. Gli allenamenti sono sempre costanti e impegnativi, e i miei compagni stiamo allenando sempre al massimo per arrivare pronti.